Il periodo della vendemmia è un momento incredibilmente impegnativo. Per garantire buon successo, il software VinPilot tiene sempre sotto controllo tutti i processi importanti nella vostra cantina, in modo che possiate dare ai vostri vini esattamente ciò di cui hanno bisogno al momento. Le informazioni sui lotti vengono salvate automaticamente e possono essere esportate in qualsiasi momento. Con pochi clic è anche possibile inserire i dati delle analisi del vino o impostare la temperatura di fermentazione ideale. Per garantire che non vengano dimenticati i lavori importanti da eseguire nelle loro fasi, è possibile creare ordini di incarichi e assegnarli ai singoli dipendenti. Tutte le attività, come l'aggiunta di prodotti di trattamento, il trasferimento o la pulizia dei contenitori, vengono registrate e possono essere rintracciate in qualsiasi momento. Inoltre, con il software VinPilot è possibile automatizzare completamente molti processi importanti. Ad esempio, è possibile impostare la temperatura di fermentazione, in modo che venga regolata automaticamente in base al processo di fermentazione, o impostare intervalli per il rimontaggio automatico o l'ossigenazione micro-macro. E la cosa migliore è che potete fare tutto questo in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo, perché con l'app VinPilot avete sempre accesso ai processi più importanti della vostra cantina e avete la certezza 24 ore su 24 che tutto stia andando secondo i piani. Con il nuovo software VinPilot non lasciate quindi nulla al caso quando si tratta di fermentazione.